A sta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot! Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo e potentissimo Gohan Super Saiyan Full Power! E oggi siamo qui tra le montagne sudorientali per andare a fare una nuova mitica missione secondaria! Già ragazzi mi viene da ridere a guardare questa scena qua dietro Gohan! Infatti ragazzi la missione che andremo a fare oggi è di una persona che conosciamo benissimo! L'abbiamo aiutata innumerevoli volte, l'abbiamo salvata innumerevoli volte dai cavolo dei Cybermen! Stiamo parlando ragazzi appunto della cuoca del villaggio Kaylin! Quindi ragazzi quante volte l'abbiamo aiutata? Mamma mia questa qui viene sempre sempre attaccata in ogni singola saga dai cavolo dei Cybermen! Anche quando non esistevano i Cybermen secondo me ragazzi è stata attaccata comunque! Cioè fa ridere come cosa! Infatti appena arrivati qui con Gohan il gioco ragazzi già ci spoilerà quello che accadrà! Infatti abbiamo trovato qui la cuoca del villaggio Kaylin tenuta sotto ostaggio dei Cybermen! Infatti ci sono i tre classici Cybermen che abbiamo visto tutte le volte lì in aria a cercare di attaccarla! Pronti ad attaccarla fin quando non si avvicina Gohan e partono all'azione! Come potete leggere qui la cuoca dice Volete lasciarmi in pace una buona volta? E ovviamente i Cybermen che non capiscono una minchia dicono ghe 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 oppure dicono semplicemente no ti rompiamo comunque le palle! Perché ragazzi questa cosa qua io credo che si ripeterà anche nelle prossime saghe! Perché è una cosa che va avanti quasi dall'inizio del gioco! A questo punto visto che viene sempre attaccata e Gohan corre in suo soccorso manco se fosse il suo protettore, il suo bodyguard Pagasse Gohan così ragazzi lo fa 24 ore su 24 lo sappiamo e non ci sono più problemi Perché ragazzi questa cosa secondo me si ripeterà anche nelle prossime saghe Abbiamo visto questa scena in tutte le salse, in tutte le saghe Quindi con qualsiasi Gohan abbiamo mai avuto, con qualsiasi costume, con qualsiasi età Abbiamo sempre fatto questa cavolo di battaglia contro i Cybermen per proteggere la cuoca del villaggio Kaylin Quindi a sto punto già tiro le conclusioni adesso Ragazzi succederà anche nella prossima saga, ne son convinto Stessa scena eh, non cambierà per niente Vedremo sempre i Cybermen e la cuoca appunto in pericolo Ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare se non l'avete visto Lo scorso episodio in cui ragazzi semplicemente siamo andati a fare un nuovo allenamento con il nostro caro Gohan Abbiamo sbloccato la nuova mossa attacco in mischia chiamata Super Volo del Drago E l'abbiamo testata contro dei nemici in una battaglia Quindi ragazzi se per caso non avete visto lo scorso episodio Mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati Detto questo adesso ragazzi concentriamoci su questa missione secondaria di oggi Allora livello consigliato 55 e ci siamo pienamente dato che abbiamo Gohan proprio al livello 55 Area montagne sud orientali e ci siamo Il periodo di tempo ovviamente ragazzi l'intervallo subito dopo la fine del self game Quindi ci siamo Il riepilogo ci dice la cuoca entusiasta del villaggio è di nuovo nei guai Guardate ragazzi mai me lo sarei aspettato Mai mi sarei immaginato che sarebbe stata ancora una volta attaccata dai Cybermen Ovviamente ragazzi sto scherzando è praticamente una cosa sicurissima che avverrà sempre qui in Dragon Ball Z Kakarot È una delle certezze di questo gioco che la cuoca del villaggio Kaylin sarà sempre attaccata Salvala sconfiggendo i suoi aggressori che ovviamente sappiamo essere i cari Cybermen Che io ragazzi non sopporto sinceramente hanno un comportamento un po' strano E ragazzi ovviamente il gioco ci spoilerà tutto perché arrivati sul luogo Già ci sono i Cybermen in aria che stanno diciamo attaccando la cuoca del villaggio Kaylin Ricompense completamento 168.013 punti esperienza Un grembiule romantico e un orologio costoso Quindi ragazzi esperienza e due doni Perfetto Bene a questo punto finalmente ragazzi possiamo avvicinarci Qui abbiamo i tre Cybermen di color giallo quasi dorato mamma mia Facciamo parla Oddio ragazzi spaventatissima la cara cuoca La conosciamo benissimo non si cambia neanche mai di abito Cioè è sempre stata così come la vedete adesso La cuoca entusiasta dice Aiuto quei tipi sono spuntati fuori dal nulla Cioè ragazzi ma lei se lo dovrebbe anche aspettare un attimino Ogni volta viene praticamente attaccata anche se a distanza di un anno ad esempio O a distanza di più anni comunque un attimino se lo deve aspettare Non può andare dormendo in giro con gli occhi chiusi Quindi lei porta di solito il cibo in giro Quindi i Cybermen sono affamati e la vanno ad attaccare Va bene avanti Ok ragazzi quindi subito si inizia Livello consigliato 55 Aggressione frequente Ecco già la missione raga dice tutto porca miseria La descrizione e le ricompense le abbiamo già lette Aiutare la cuoca entusiasta E certo ragazzi ormai siamo sul posto Poi Gohan e il bodyguard di questa cuoca Vai Ok ragazzi Aggressione frequente Mai l'avrei detto raga vi giuro mai l'avrei detto Sto scherzando si sa Perfetto vediamo un po' Tranquilla ci penso io a loro raga la fotocopia dell'altra volta Cioè io mi sorprendo di quanto questa missione sia uguale a quella dell'altra volta C'è una roba assurda Avanti Oh ragazzi ed ecco qua che comincia questa mitica battaglia contro questi maledetti Cybermen di livello 56 addirittura Questo significa che sono più potenti ragazzi di Cell e di Gohan Una roba inconcepibile Facciamo Super Saiyan 2 immediatamente Stiamo attenti ragazzi Vedete come ci attaccano all'improvviso Kamehameha ragazzi Li becchiamo tutti e tre incredibilmente Attenzione ci ricarichiamo Dai ragazzi dobbiamo andare a eliminarli Vai 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 Gohan forza Attenzione all'altro che subito ci prepara un bellissimo attacco Attenzione Kamehameha vai Dai forza Gohan Vai vai forza Dai ragazzi dobbiamo distruggerli Ci ricarichiamo Attenzione Ok sempre stessi attacchi insomma raga C'è niente di nuovo insomma Vai Kamehameha adesso Dai ragazzi no non ci credo Quasi distrutto c'è Assurdo raga dai ci ricarichiamo Vai Ok perfetto dai ragazzi Facciamo appunto Kamehameha Distrutto già uno raga Attenzione Attenzione Dai ci stanno comunque danneggiando Ma uno raga comunque sono soddisfatto di averlo eliminato Shbam Facciamo ragazzi Super Massenko Vai Distrutto raga Distrutto Fantastico Nonostante il tutto è difficile Ce la stiamo facendo Ci ricarichiamo adesso E adesso raga ne vedremo delle belle Attenzione Shbam Ragazzi Facciamo Onda dell'Aura Ripetizione Così lo devastiamo Vai Beccalo Gohan Vai 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 Dove deve scappare Vai 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 Forza Ragazzi ci ricarichiamo ancora una volta Facciamo la scarica Possibilmente Vai Gohan Forza la scarica Con Super Saiyan 2 Mamma mia ragazzi Attenzione 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 Ecco che arriva Ma non ci fa l'attacco Facciamo Kamehameha ragazzi Arraffica Su Vai fine Sì ragazzi Ecco qua l'onda che esce dal pianeta Dall'atmosfera Super Mossa finale Fantastico ragazzi Ce l'abbiamo fatta Grado S 13.135 Punti Esperienza Mamma mia ragazzi Quanta roba Assurda Vediamo adesso ragazzi Che altro succede Abbiamo appunto La cuoca qui Gohan dice Ora è tutto a posto E certo ragazzi Abbiamo distrutto Devastato appunto Quei cavolo di Cybermen Abbiamo fatto uscire La kamehameha Fuori dal pianeta Cioè ragazzi Una roba davvero Assurda ed incredibile Mi piace sempre Quando succede Vediamo un po' Che cosa dice la cuoca Che adesso Mi sembra davvero Esausta Si vede tantissimo Da come si sta muovendo E anche dalle prime due parole Che è davvero Stanchissima Grazie infinite Credevo di essere Spacciata Ma poverina ragazzi Questa qui viene Sempre attaccata Ma meno male Che c'è il nostro Caro Gohan Che risolve Sempre la situazione Avanti Ehi E tu chi sei? Ecco ragazzi Non lo riconosce Perché Gohan Ha appunto Al momento Il Super Saiyan Full Power E appunto I capelli biondi Quindi Quando cambiano Di colore i capelli Gli altri personaggi Che non sanno Di questa trasformazione Diciamo che vanno In confusione E non sanno più Chi hanno davanti Non riconoscono Insomma la persona Avanti Eh? Ah sono io Gohan Scommetto che non mi hai È riconosciuto per via Dei capelli Prevedibile ragazzi Ovviamente Si era capito? Ah è vero Sei proprio tu Wow Hai un'aria davvero diversa E certo ragazzi Perché appunto Dopo che Gohan È stato nella stanza Dello spirito E del tempo È comunque cresciuto Ha un anno in più È appunto È diventato molto più Muscoloso sicuramente E ha i capelli biondi Quindi le persone Effettivamente Che non lo vedono Da tanto tempo Fanno fatica A riconoscerlo È una cosa Un po' negativa Ma ragazzi Non ci si può fare nulla Gohan si doveva Per forza Allenare All'interno Della stanza Dello spirito E del tempo E necessariamente Potenziarsi E cambiare anche Di aspetto Avanti Ah 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 Sì Sono successe parecchie cose Possibile che la cuoca Non abbia sentito Del Cell Game Della minaccia di Cell E tutto quanto Chissà Ecco ragazzi Cosa importantissima Gohan dice Certo che le succede spesso Ecco ragazzi Quello che penso io Ve l'ho detto A inizio del video Cioè succede sempre Porca miseria Anche Gohan lo ha detto Fantastico È terribile Pensi che sia di nuovo Colpa del mio cibo Io ragazzi Sinceramente Penso che sia Tutta colpa del cibo E per forza quello Sennò perché Dovrebbero attaccarla Sicuramente il cibo Ha un buon profumo E quindi i Cybermen Vanno lì tutti affamati Ad attaccarla Sempre Ha davvero un profumo Così irresistibile Evidentemente sì Avanti Anzi no Non è così La colpa è solo loro Effettivamente Raga Non fa una piega Cioè i Cybermen Si devono stare Un attimino calmi Anche se hanno fame Cioè non è che Attaccano il primo Che passa Solo perché Ha del cibo Ecco Avanti Pensano che tu sia Una specie di Distributore Gratuito ambulante Ecco ragazzi Sta frase mi fa Un po' ridere Perché effettivamente Secondo me I Cybermen La vedono Esattamente in quel modo Dicono Andiamo da quella Che quella Ha sempre il cibo Buonissimo Ecco Avanti Non dirmi Che lo pensano Davvero Sarebbe terribile Ecco Ora si spaventa Minimo Cerchi solo Di fare più attenzione Quando trasporta Del cibo Ma ragazzi Questa dorme in piedi L'ho detto prima Altro che attenzione Se no Si nasconderebbe Insomma Cercherebbe di non farsi Vedere Quando trasporta Del cibo Mentre questa Va ad occhi chiusi Rilassata al massimo Quando va in giro E non va bene Avanti Cosa ho fatto Per meritarmi questo Io voglio solo Cucinare piatti deliziosi Effettivamente Ragazzi Mi dispiace Per la cuoca Perché non fa mai niente di male A quanto so io E appunto Vuole solo cucinare E la vanno sempre A disturbare E ne passa di cotte E di crude Quindi Poverina Avanti Beh io ora vado Tenga gli occhi aperti Intesi Si ragazzi Come no Succederà ancora una volta Sicuramente nella saga di Majin Buu Minimo succederà un'altra volta Me lo aspetto Raga Me lo aspetto Sicuramente con Gohan Adulto Succederà di nuovo Avanti Aspetta Non scappare Devo ancora ringraziarti Come si deve Per avermi salvata Ecco qua ragazzi Il momento della ricompensa Infatti Questa cuoca Si comporta sempre Nella stessa maniera Prima si trova nei guai Gohan poi la salva Sempre dai soliti Cyberman E poi ci ringrazia Con tipo una ricetta Di qualche cibo Particolare Quindi immagino Sarà la stessa roba Stavolta Avanti Prendi questo Ecco ragazzi Ci da qualcosa Vediamo Ecco qua ragazzi Oggetti ottenuti Ricetta Menù di carne Deluxe 1 Frutto aromatico 1 Uovo 1 Perfetto ragazzi Ci ha dato un bel po' Di roba E ce la prendiamo Tranquillamente Avanti Cosa Dice sul serio Ecco ragazzi Gohan non si aspettava Questo regalo Da parte della cuoca Infatti Gohan lo ha fatto Per salvarla E basta Non è che voleva Qualcosa in cambio Ecco che rimane Stupito Avanti Assolutamente si Accettalo O mi sentirei In colpa Ecco ragazzi La nostra cara cuoca Che si comporta Gentilmente Grazie mille Avanti Grazie mille Ecco ragazzi Gohan che ringrazia Vediamo un po' No Grazie a te Se dovessero assalirmi Di nuovo Conterò su di te Ecco ragazzi Questa frase qua E' un teaser Per quello che accadrà Nella saga di Majin Buu Immagino Perché appunto Questa qua viene assalita sempre E quindi Gohan Magari adulto Dovrà di nuovo salvarla Dai Cybermen Immagino O da altri nemici Quindi Roba assurda Che si ripeterà Avanti Ha 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 Gohan raga Fa una risata un po' Strana Come per dire Che palle Lo devo fare ancora una volta Avanti Ecco ragazzi Appunto Ciò che pensa Gohan Non mi sorprenderei Se succedesse di nuovo Ecco Manco Gohan Si sorprende più ragazzi Per quante volte è successo Porca miseria Avanti Ecco qua ragazzi Storia completata Perfetto Dai forza Voglio le ricompense Allora 168.013 Punti esperienza Un grembiule romantico E un orologio costoso Avanti Perfetto raga Ce l'abbiamo fatta La battaglia è stata un po' dura Ma alla fine Li abbiamo battuti tutti Quindi non saliamo di livello Con il nostro caro Gohan L'esperienza non era abbastanza Quindi ragazzi Oggi Siamo andati a fare Questa nuova missione Secondaria Per la cuoca Del villaggio Kaylin Chiamata appunto Aggressione frequente Già il nome ragazzi Ci ha spoilerato tutto Infatti Questa cuoca Del villaggio Kaylin Come sappiamo Viene sempre Attaccata dai Cybermen Ed è successo Anche questa volta Ma ovviamente Non è finita Verrà attaccata Anche altre volte Devo dire che La battaglia è stata Abbastanza dura Raga Infatti i Cybermen Come avete visto Erano più forti Quindi appunto Uno contro tre Non è stata proprio Una passeggiata Ma alla fine ragazzi Ce l'abbiamo fatta E le abbiamo distrutti Con una bella Super mossa finale Una conclusione ragazzi Veramente al bacio Veramente bellissima E alla fine La cuoca Ha fatto capire benissimo Che se succederà Un'altra volta E ve lo garantisco io ragazzi Che succederà Altre innumerevoli volte Gohan dovrà venire qui A salvarla Quindi ragazzi Con oggi Non abbiamo concluso niente Perché succederà Ancora una volta E la cuoca In pratica Non vuole stare attenta Vuole andare ad occhi chiusi Dormendo E poi viene attaccato Ogni cavolo di volta E Gohan Deve andare scappando A salvarla Sta situazione Non cambierà mai Mi raccomando Fatemi sapere la vostra Su tutto questo episodio Fatemi sapere Se la missione di oggi Della cuoca Vi è piaciuta Fatemi sapere Se vi è piaciuta La battaglia Contro i tre Maledetti Cybermen Fatemi sapere Se avete fatto Anche voi Questa missione storia E fatemi sapere Infine Se pensate O se siete certi Che la nostra Cara cuoca Si troverà Nuovamente Nei guai Quindi ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto E che vi abbia Anche un po' divertito Se volete ragazzi Lasciate un like Condividete Iscrivetevi Se non siete iscritti E ricordatevi sempre Che io Tornerò Che io